Manuela Giuliano, ultimo test prima del mondiale, 3-1 alla Svizzera, un assist tuo, in generale un amichevole che ha dato buone risposte? Sì, diciamo che il lavoro che stiamo svolgendo si vede in campo, ci sta ripagando in positivo e continueremo a lavorare nei prossimi giorni prima di partire per la Francia e sicuramente andremo lì con le idee chiare. Siete a lavoro già da qualche tempo, adesso la mente inevitabilmente dopo l'ultimo amichevole va al 9 giugno? Assolutamente sì, non vediamo l'ora di giocare queste partite, alla fine dopo quasi un mese di ritiro la voglia e la tensione c'è e ovviamente non vediamo l'ora di affrontare queste squadre. Un 3-1 alla Svizzera che è un'avversaria che ci ha dato, nel senso che vi ha dato il filo da torcia, è stata un'amichevole forse che vi serviva anche per rodarsi in vista del mondiale? Sì esatto, era un'amichevole che ci serviva per capire a che punto eravamo, non soltanto fisicamente ma proprio anche di gioco, in alcuni momenti è stata un'ottima partita. Sia per noi a livello difensivo che offensivo che anche per loro, ci serviva poi ovviamente nel secondo tempo, vuoi il tempo, vuoi un po' di stanchezza, i ritmi casomai non sono stati altissimi, però va bene così. L'ho detto, ci prendiamo il risultato, i tre punti virtuali e questa vittoria che fa sicuramente tanto morale. Pochi giorni al mondiale che sarà una grande occasione per tutto il movimento del calcio femminile, italiano e non solo. Sì esatto, il mondiale sarà veramente un grandissimo evento, io lo definisco il primo vero mondiale del calcio femminile, perché con tutto lo sviluppo che si sta avendo da un paio di anni a questa parte, credo che per l'organizzazione che ci sarà sarà veramente un grandissimo mondiale. Quindi noi ci siamo, l'Italia c'è e portare lì il tricolore è sicuramente una grande responsabilità, però anche un orgoglio e un'emozione forte, quindi la dovremo prendere con il sorriso, con la giusta responsabilità, ma proprio per divertirci, per viverci questa grande esperienza che manca da 20 anni.